Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News, l'Inter in primo piano dopo l'uscita dall'Europa per racconte l'imperativo categorico è quello di vincere lo scudetto. I Nerazzurri hanno deciso di andare avanti con il tecnico Salentino ma non è assolutamente da escludere che nella prossima annata comunque la sua panchina possa essere affidata ad un altro allenatore. Il punto con Ivan Cardia. Buonasera Lorenzo, Antonio Conte non resta che lo scudetto, dopo la cosciente eliminazione in Champions League il tecnico Salentino è finito inevitabilmente sulla graticola, tante critiche gli sono piegute addosso sia per l'ultimo posto nel girone che per le scelte tattiche che anche per le esternazioni e l'ennesimo sfogo da quando guida l'Inter. Al momento la società di Zhang conferma la fiducia in lui anche perché l'Inter ha comunque una grandissima occasione, non ha più le competizioni continentali, a differenza di quasi tutte le concorrenti non è un campionato nel quale la Juventus sembra poter dominare come è successo nei nove precedenti, l'Inter può puntare lo scudetto, anzi deve puntare lo scudetto perché essere fuori dall'Europa è ovviamente un maus, è inevitabile, ma da quel punto di vista è anche un'occasione che Conte non può più fallire gli spauracchi, le ombre sulla sua panchina ci sono perché Massimiliano Allegri, che è un po' la paura di tutti i grandi allenatori, è un tecnico che piace all'Inter, ha ottimi rapporti con Marotto ovviamente perché come Conte del resto ha vissuto grandi anni alla Juventus insieme, c'è anche Simone Inzaghi che sta facendo cose grece alla guida del Lazio e piace all'Inter, non soltanto all'Inter ma anche all'Inter, ora c'è Conte, si va avanti con Conte puntando la Serie A, puntando lo scudetto, non può più sbagliare. Saluto adesso Andrea Agostinelli, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto un ricordo di Paolo Rossi visto che siete stati compagni di squadra anche in Under 21. Sì, è stato un brutto colpo, guarda, anche perché al di là degli anni, tanti anni fa, che avevamo giocato insieme due anni in Under 21, ci siamo visti tantissime volte in trasmissioni, siamo andati a fare delle tournee insieme con gli ex calciatori, insomma voglio dire, è stato un rapporto sempre continuo, quindi è una perdita gravissima e soprattutto è una perdita di una persona speciale. Parlando invece di calcio e in particolare dell'Inter, Conte adesso deve vincere assolutamente lo scudetto, ma perché i nerazzurri non riescono mai a spiccare definitivamente il volo? Bella domanda, come fa? Io credo che la Rosa ce l'abbia assolutamente per poter spiccare il volo. C'è qualcosa che in Europa non riesco a comprendere, il perché non riesce mai Antonio Conte a fare cose importanti, magari in campionato sì, non so se sia questione di modulo di giocate, di modulo la difesa a tre o non la difesa a tre, è difficile spiegarlo, di certo posso essere convinto e sono convinto che la Rosa dell'Inter è una Rosa assolutamente di grandissima qualità e mi sembra abbastanza completa per poter lottare in tutte le competizioni e vincere. Però se non dovesse arrivare lo scudetto si parlerebbe di fallimento totale? Sì, beh, penso di sì, però ripeto, c'è ancora un sei in mezzo, cioè quello che l'Inter per me potenzialmente può vincere lo scudetto. E' ovvio che se partiamo da questo presupposto che non vincerà lo scudetto, allora sì, possiamo dire che potrebbe essere un'annata fallimentare. Per quanto riguarda la Lazio, approdata agli ottavi di Champions, c'è bisogno di almeno un rinforzo a gennaio? Sì, un rinforzo a gennaio c'è, c'è assolutamente bisogno. Devo dire che la Lazio, come al solito, le sue vittorie le fa mai con grande serenità. L'ultima partita è stata veramente pazzesca per tutti i tifosi, però alla fine il risultato è stato, c'è stato. Gli ottavi di finale di Champions è tantissima roba, come diciamo noi oggi in questi periodi. E quindi, bene, però sì, un rinforzo considerato anche che c'è stato un incremento di dollari, tra virgolette, per questo passaggio del turno. Insomma, credo che lo titolo lo farà, via. Il Napoli invece ha trovato l'andamento regolare per poter puntare allo scudetto? Ma il Napoli come rosa, io lo dico da tempo. La rosa del Napoli, dato che oggi come oggi la Juventus ha un po' azzerato questa forbice, ha un po' chiuso questa forbice che c'è stata per dieci anni con le altre squadre, il Napoli è una di quelle squadre che può puntare allo scudetto, per me assolutamente sì. C'è una rosa per me formidabile. Invece, parlando dell'Atalanta, che idea si è fatto non soltanto sull'approdo dei Nerazzurri agli ottavi di Champions League, ma anche sul rapporto tra Gasperini e Gomez e tutte le questioni che ne sono nate, le discussioni e anche le voci che ci sono state proprio sulla panchina di Gasperini? Beh, intanto devo dire che l'Atalanta ancora una volta ha dimostrato, quantomeno in Coppa, di essere straordinario. Adesso passa quasi inosservato che è superato il turno con facilità. E non deve essere così, perché è vero anche che ormai l'Atalanta noi la dobbiamo identificare come una delle squadre in assoluto tra i quattro più forti di Italia. In campionato qualcosa ha scricchiolato, perché probabilmente le squadre che adesso incontrano l'Atalanta cominciano a capire il loro gioco e quindi qualche difficoltà lo trova. Prima di rispondere su Gian Piero Gasperini voglio dire una cosa. Ci siamo resi un po' conto, questo è un motivo di discussione, che in Italia tante squadre giocano a uomo come gioca l'Atalanta. Ieri per esempio la squadra che ha giocato contro il Napoli, praticamente l'Atletico lì, giocava a uomo come l'Atalanta. E quindi ancora di più c'è da dire che veramente ha aperto come Guardiola, per quello che penso io, ha aperto un portone per il tiki-taka, per questo palleggio dal portiere. Gasperini sta prendendo un portone per un gioco che sta tornando un po' dietro. E questo è una cosa molto importante. I rapporti tra Gasperini e Papu Gomez e ci mancherebbe che in due o tre anni di convivenza in una famiglia non ci siano dei litigi. L'importante è che non ci siano rancori e che si ritorne tutto al punto giusto. Anche perché Gian Piero è un allenatore abbastanza duro, di grande carattere. Il Papu Gomez è il Papu Gomez, quindi qualche volta ci può stare. Basta ripeto che rientri tutto nella normalità. Il Genova invece quanto rischia di retrocedere? Il Genova ultimamente, negli ultimi anni, ha sempre rischiato fino all'ultima partita. Quindi deve fare qualcosa in più. Quest'anno, come al solito, si giocherà la salvezza. Però fammi dire una cosa. Reputo il Genova una squadra di una storia incredibile. Quindi perché non si riesce a fare una squadra un po' più forte? È un discorso che vale anche per il Torino, che ha una grande storia. Che si ritrova a lottare per non retrocedere. Il Torino, guarda, il Torino, devo dire la verità, per me è una delusione incredibile. Pensavo comunque che con Gian Paolo potesse fare, almeno per adesso, qualcosa in più. Ma veramente è la delusione più grossa di questo campionato. Vedremo, perché domani c'è una partita delicatissima per i Granata contro l'Udinese. E anche lo stesso Gian Paolo è in bilico. Grazie per il momento ad Andrea Costinelli. A presto. A presto. Ciao, grazie a voi. Bene, voltiamo pagina. Tra le partite in programma è molto delicata quella del Torino con l'Udinese. I Granata navigano nei bassi fondi della classifica. Hanno assoluto bisogno di punti. E anche la panchina di Gian Paolo è in bilico. E dunque ci racconta la situazione il nostro Emanuele Pastorella. Sì, Lorenzo. Il momento del Torino è uno dei più complicati degli ultimi anni. Considerando la sconfitta nel derby e l'ennesima rimonta subita, oltre a una squadra che continua a restare in zona retrocessione, ha acceso gli umori dalla piazza con circa 300 tifosi che, ricordiamo, nell'allenamento di martedì si sono presentati al Filadelfia per contestare la squadra e il presidente Urbano Cairo. Tutti si aspettano una svolta. La partita giusta sembra essere quella di domani contro l'Udinese, quando il Torino non può permettersi altri passi falsi. Gian Paolo ha bisogno di rinforzare la sua posizione in panchina, perché comunque non è ancora in discussione, però è inevitabile che in caso di nuovo fallimento si potrebbero aprire tutti gli scenari. Pensa di tornare al 4-3-1-2 con Lukic rientrato a pieno regime dopo il Covid, che dovrebbe supportare Zazza e Belotti, mentre in difesa al fianco di Inculu e in vantaggio Bremer, che potrebbe così far rifiattare il brasiliano Lianco. Sul fronte mercato Gennario si avvicina, è inevitabile, ma come tutti gli anni non penso che Cairo stravolgerà la squadra. Il suo obiettivo insieme al DS Vagnati è quello di accontentare gli esuberi, che comunque ci sono nella squadra Granata, in primisizio che comunque anche con il momentaneo passaggio alla difesa 3 di Gian Paolo in queste ultime partite, comunque non ha trovato spazio ed è inevitabile che cerchi una nuova sistemazione, come d'altra parte ha anche palesato qualche giorno fa il suo procuratore Raiola. Sul fronte Inculu si aspettano novità su un rinnovo che appare abbastanza complicato e ricordiamo che il suo contratto andrà in scadenza a giugno. Da Emanuele Pastorelli da Torino è tutto, un saluto. Andiamo adesso a collegarci con Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Buonasera e benvenuto. Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti i nostri videoascoltatori. Parliamo innanzitutto della Lazio che è approdata agli ottavi di Champions, ha fatto un po' correre qualche brivido per arrivare a questa qualificazione, però tutto sommato è stato un approdo meritato. Beh direi proprio di sì per il cammino che ha fatto, insomma. Una squadra che ricordiamoci ha avuto dei problemi, soprattutto con il Covid, quindi giocatori importanti non hanno partecipato a partite importanti, cioè incontri importanti, però la Lazio è riuscita comunque con il gruppo, con la compattezza a far punti. Quindi credo che sia molto meritata, seppur come ti hai detto tu, sofferta gli ultimi dieci minuti, perché quella traversa grida vendetta per i belgi, ma sicuramente per noi laziali è stato un sospiro di sollievo quando ha fischiato l'arbitro. Comunque credo che sia stata meritatissima. È la prova che la Lazio deve ormai migliorarsi per arrivare a certi livelli e soprattutto mantenersi a certi livelli. Ecco, per migliorarsi nel mercato di gennaio ti aspetti quantomeno un rinforzo per la difesa, per poter comunque anche dare la possibilità a Inzaghi di poter contare su un alter ego di Acerbi almeno? Ma sai, io non credo molto al mercato di gennaio, Lorenzo, perché non vedo grandi giocatori che ti possono fare la differenza. Però se, come dicono tutti, io ci chiedo che basterebbe un difensore per lanciare a Lazio in Coppa dei Campioni, va bene, però io non credo che sia questo. Migliorarsi per arrivare ai quarti deve migliorare un po' tutta la squadra. Per adesso credo che vada bene così. L'importante è che a Lazio che ogni anno si ripresenti in Coppa dei Campioni, in Champions League e faccia la sua figura. Insomma, il mantenimento è la cosa secondo me più importante per il momento. In molti sostengono che comunque questa Lazio sia molto forte negli undici, però poi nel momento in cui devono entrare in campo le seconde linee qualche problema arriva. È chiaro che se devi stare a questi livelli, le alternative devono essere a ottimi livelli, perché se tu vai a vedere le rose delle squadre che stanno in Champions League, le otto squadre hanno nelle riserve, chiamiamole così, giocatori di altissimo livello. La Lazio è chiaro che quando levi quei 4-5 e li sostituisci si abbassa abbastanza la qualità della squadra, quindi per stare a quei livelli chiaramente devi avere una rosa di minimo 18-19 giocatori di alto livello. Per quel livello in Italia può andare, perché poi comunque anche chi è entrato ha fatto sempre la bella figura, però per giocare in Europa secondo me contro quel tipo di squadre devi avere una rosa più ampia. Murici secondo te è stato un investimento sbagliato da parte della Lazio che ha speso tanto, 18 milioni per acquistarlo? Non si può dire, io l'ho visto giocare pochissimo, quindi è un giocatore che ha una struttura importante, quindi deve assolutamente per prendere forma giocare in continuazione. Fino adesso non l'abbiamo visto, quindi è inutile dire che è stato o non è stato un investimento importante. Quando avrà la possibilità di giocare 10, 12, 13 partite di seguito poi daremo un giudizio. Adesso onestamente non mi sento di accusare la società che ha fatto un acquisto sbagliato. Restando sull'attacco ci sono anche delle voci su una possibile partenza di Caicedo. Sarebbe una mossa sbagliata da parte della Lazio? Ma no, perché se tu hai Murici, hai investito, credo che sia l'alternativa a Caicedo, cioè Caicedo si è sempre comportato bene, però insomma Caicedo non è Lewandowski, non è immobile e non è Suarez. Ma se non lo lanceresti partire, ecco, nonostante... Sì, perché se poi devi investire su Murici sarebbe una buona mossa, anche se poi ti porta del denaro sarebbe un'ottima mossa. Domani c'è Lazio-Verona, un test significativo per Bianco Celesti, perché questo Verona si è confermato rispetto all'anno scorso. Assolutamente sì, perché il Verona è una squadra molto difficile da battere perché corre molto. Corre ed ha qualità. E secondo me, io l'ho vista giocare due volte quest'anno e mi ha, non dico impressionato, però mi ha fatto una buonissima impressione perché nei ricambi l'allenatore cambia modulo, nel senso riesce a cambiare determinate situazioni, proprio con i cambi che ha in panchina, perché in panchina ha giocatori di qualità. Però parte sempre con giocatori di corsa, dinamici e resistenti. Poi alla fine mette i giocatori di qualità, quindi gli consente proprio di cambiare fisionomia a una squadra. Quindi è una squadra da temere. Tu sei stato a lungo il tecnico della Bitalia, adesso però questa squadra di fatto non esiste più, è stata presa questa decisione di tagliarla, tra virgolette. Come mai? Che cosa è successo? Eh, questo non lo devi chiedere a me. Il Consiglio di Lega ha stabilito che era, non dico inutile, però non potevano supportare poi delle spese che erano veramente basse, cioè si parla di 600 euro al mese a società, quindi finanziavano quattro rappresentative, che poi in otto anni hanno fatto bellissimi risultati, insomma hanno vinto un'università, hanno vinto quattro tornei internazionali, insomma sono usciti Orsolini, Tonali, tutta gente che ha navigato in B, che non stava nelle nazionali, diciamo, della federazione, però con le Bitalia sono riusciti a mettersi in mostra. Quindi è stato un lavoro molto, molto interessante che purtroppo non ha avuto una continuazione. Però, sai, io non comando, se dovesse dipendere da me, io la farei ancora. Anche perché comunque era un modo per far assaggiare, tra virgolette, la maglia azzurra a tanti altri raggiatori. Sì, no, perché il problema aveva raggiunto un'identità, cioè i ragazzi venivano volentieri e si identificavano proprio in quella nazionale. Quindi la Bitalia era riconosciuta. Ecco, questo è stato il più grande risultato, perché se tu mi chiedi della Bitalia vuol dire che ti ricordi il nome Bitalia e ti ricordi quella identità. E questa purtroppo non c'è più. Massimo, grazie per il buccalupo. Grazie a te Lorenzo, buon lavoro a voi e a tutti. Ciao, ciao. È il momento adesso di collegarci con Tito Corsi. Buonasera Tito, come stai? Ciao, buonasera. Bene, grazie a te. Bene, bene. Si procede e si va avanti con il calcio, anche nonostante ci siano anche in questo mondo tante difficoltà. Però comunque si guarda avanti e ti chiedo, innanzitutto, visto che sei stato il direttore sportivo del Vicenza ai tempi di Paolo Rossi, un ricordo inevitabilmente di Pablito. Pablito, dovrei ripetere quello che tanti hanno detto, tutti. un ragazzo, un giocatore eccezionale e un ragazzo eccezionale. Nonostante tutti i suoi successi, i suoi trofei, le sue grandi vittorie, è rimasto Paolo Rossi, come era quando giocava nella Cattolica Dittus. un ragazzo sincero, genuino, modesto. Ma non modesto perché valeva poco, modesto perché… Modesto nel senso di umile. Di umile, sì, bravo. eccezionale, un ricordo, un ricordo bello, vivo. Tra l'altro io, oltre ad averlo conosciuto lì a Vicenza, poi ci siamo anche frequentati durante il resto della vita. L'ultima volta che l'ho visto, l'ho vista a gennaio, mi pare, poi con questa situazione siamo stati un po' isolati. però ho un ricordo eccezionale. Quando io l'ho saputo all'improvviso, ieri mattina, credi, è stato un colpo tremendo. Eh sì, un fulmine a ciel sereno. Ricordando il calciatore, un rapinatore d'aria incredibile. Sì, ma era cosciente di queste rapine, perché lui, per doti, per natura, sicuramente per doti sue intrinseche, si faceva trovare sempre lì. Perché diceva, ma è facile buttarla dentro. Sì, ma perché c'è lui io, no? Quindi Paolo aveva un senso del gol che era spiccato, la freddezza di arrivare sul pallone, fare anche dei movimenti, mai troppo irruente, ma sempre compassato e sempre convinto di quello che faceva. È vero che lo volevi portare alla Fiorentina poi negli anni Ottanta? Sì, ma poi venne fuori... Non era possibile, insomma. Ma ecco, sì, a volte si viene a giocare da me, ma non è stato possibile. Ma per una questione economica o per... No, 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 perché lui era orientato verso altre situazioni, giocare in squadre più grosse, più importanti, anche se magari quell'anno lì del campionato... Poi sai, fino a che non è... All'81 mi pare lui ha ricominciato a giocare, anzi, forse nell'82 addirittura ha ricominciato a giocare, e quindi non c'era stato il tempo materiale per poterne... Poi dopo giocava, era campione del mondo, giocava nella Juventus, mi pare che in Italia un traguardo migliore non poteva averlo. La lotta a Scudetto, così parliamo della stretta attualità, come la vedi e quante chance dai al Milan di poter conquistare il titolo? Il Milan sta facendo cose stupendose, perché io mi giocherei in tutto per vedere di trovare uno che all'inizio fosse stato consapevole di questa situazione. quindi, devo dire, sta marciando a pieno motore, c'è da vedere soltanto a lungo andare se la situazione va avanti così. Il fatto è che vincono giocando molto bene, quindi è sicuramente una situazione molto delicata. Le altre squadre stanno riconquistando piano piano posizioni, anche se per ora non sono concrete nella continuità dei risultati. È solo la Juve che ora è ripartita, come è abituata a fare, e sarà forse la maggiore concorrente del Milan. Non dimenticando l'Inter, un Inter strano, un Inter che in certi momenti alterna momenti di grandissimo livello di calcio a momenti meno comprensibili. La situazione della Fiorentina, invece, quanto è preoccupante secondo te? Preoccupante? Io non la vedo molto preoccupante. È un momento così trascorso ora, sembra che sia un'eternità che la Fiorentina non si esprime, ma la squadra, bene o male, se piano piano Prandelli riuscirà a dare il volto che vuole, ha dei valori, ha delle possibilità. Quindi non direi preoccupante in che senso, di pauroso, senso pauroso. No, no, io non ci credo. Non ci credo e penso che piano piano, a piccoli passi, ma senza polemiche, perché è troppo facile quando una squadra attraverso il momento nero hanno sbagliato tutto, hanno fatto tutto. Non è vero. Sono circostanze particolari, tant'è vero che molte volte si vede che entra un altro e con gli stessi giocatori fa dei grandi risultati. Io aspetterei a essere polemico di avere tanta paura, però un pochino di paura non fa neanche male. Va bene, allora grazie a Tito Corsi per questo intervento, buon proseguimento di serata, alla prossima. Grazie, altrettanto, ciao. Bene, siamo così ai saluti, naturalmente ci ritroveremo domani con l'edizione del sabato del TMW News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.